Ho fatto tutto quello che potevo, ma lei è proprio ostinata di natura. Guardatevi sempre da lei e evitate la sua compagnia. Questa è Jane Eyre. Tomfield è una bella proprietà, forse un tantino trascurata, ma basterebbe che il signor Rochester tornasse. Come fate ad essere così spietato? Io potrò essere povera e brutta, ma sono fatta di anima e carne. Di che mi ami? Io vi amo ora più che mai, ma questa è anche l'ultima volta che ve lo dirò. Jane Eyre. Domenica alle 21.20.